In un mondo sempre più digitale, può essere utile non doversi recare fisicamente in banca per operazioni semplici e di routine. Per questo ti offriamo Business On, una piattaforma di servizi digitali dedicata a imprenditori, aziende e liberi professionisti, perché il nostro obiettivo è fare le cose così bene da farti stare bene. Quante volte ti è capitato di aver bisogno di una risposta puntuale, precisa e veloce senza avere il tempo di andare in filiale? I nostri consulenti sono a tua disposizione anche online e in videoconference. Basta un clic all'interno di Business On per fissare un appuntamento e ricevere tutte le risposte di cui hai bisogno. Ad esempio, nella sezione Contatti, avrai la possibilità di essere ricontattato dal tuo consulente per richiedere un finanziamento o una carta di credito per la tua impresa. Inoltre, per una migliore gestione amministrativa della tua attività, in Business On è possibile creare più utenze e assegnare a ciascuno poteri diversi in base al ruolo. Alla piattaforma puoi accedere sempre, da qualunque luogo. Lavorare bene può essere molto semplice. Scopri Business On e tutte le funzionalità che abbiamo pensato per prenderci cura del benessere della tua impresa. Questo per noi è Well Banking.